Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Ieri sopra il luogo dei tecnici del genio civile a Chietiscalo dove è arrivato l'ok agli argini di Megalo 2. Le associazioni ambientaliste restano però contrarie al progetto. Il servizio di Alfredo Primante. Dopo il sopralluogo di ieri il genio civile ha dato parere positivo rispetto alle opere realizzate per la messa in sicurezza idraulica dell'area dove dovrebbe sorgere il Megalo 2 di Chietiscalo, centro commerciale denominato Mirò. Le opere vennero ordinate dal genio civile nel dicembre del 2013 mentre a gennaio 2014 con un'altra ordinanza venne disposta la sospensione dei lavori. Gli interventi costati circa un milione di euro a carico della Sile Costruzioni consistono nella realizzazione di una paratia metallica alta quasi 2 metri che si estende per 600 metri di lunghezza, nel rialzo dell'argine esistente per 550 metri lineari e nella demolizione dell'ultimo tratto di argine per una lunghezza di 150 metri, argine che restringeva l'espansione del fiume Pescara. La vicenda di Megalo parte nel 2012 con il parere positivo del comitato via al progetto. Poi arriva lo stop da parte del genio civile e nel marzo 2013 la società Bergamasca Sile subentrata alla Sirec chiede la proroga della scadenza quinquennale del via presentando una variante al progetto originale. A quel punto la commissione via regionale dà parere negativo motivando con l'intervenuta modificazione delle condizioni ambientali, infrastrutturali, idrauliche e socio-economiche per inadempienza ai rilevi fatti nel 2012 dallo stesso via ed infine bocciando la variante proposta al progetto. Da qui parte il ricorso al tar dell'asile che si discuterà il 23 marzo prossimo. Al momento quindi tutto è sospeso in attesa del pronunciamento dei giudici amministrativi, ma nella lettera legata alla procedura di via di marzo 2017, l'ingegner di Biase, dirigente del servizio di genio civile regionale, dichiara che l'opera è autorizzabile a condizioni che si eseguano e vengano collaudate positivamente le opere prescritte dal via per la messa in sicurezza e che si verifichi la condizione di pericolosità P0 con variante al PSDA che dovrà essere approvata dall'autorità di Baccino. Contro il progetto che ricade sulla sponda destra del fiume Pescara nei territori di Cepagatti e di Chieti che hanno autorizzato con le concessioni l'intervento, si sono schierate le associazioni di categoria dei commercianti e quelle ambientaliste, critiche sulla pericolosità dell'opera e sull'impatto che avrà sul già agonizzante piccolo commercio. Adesso bisogna vedere se la ditta cercherà di forzare, diciamo così fra virgolette, sostenendo che comunque l'autorizzazione del 2012 può essere comunque ancora utilizzata, però deve realizzare il progetto vecchio, oppure attenderà il ricorso al TAR, il giudizio del TAR per, se dovesse malauguratamente vincere, pretendere anche l'esame della variante. Ecco, ovviamente noi in generale siamo assolutamente convinti che quest'opera non si debba fare. Voglio ricordare che il Megalo 1 è stato fatto senza valutazione di impatto ambientale, con una leggina regionale che è durata pochi mesi, che ha sospeso la validità delle dettive comunitarie sulla valutazione di impatto ambientale, è una cosa inaudita. Quello che dirà il genio civile è sicuramente importante, ma non la toglie al fatto che il progetto Megalo 2 è stato bocciato al Comitato Via. Quindi quel progetto è attualmente annullato a tutti gli effetti, occorrerà che il Comune di Chieti e i Comuni di Cipagatti ritirino i permessi di chissi che hanno a suo tempo concesso. Si sta tenendo in questi minuti nell'ospedale clinicizzato di Chieti l'esame autoptico sul corpo di Antonio Lizzi, il 69enne pensionato trovato morto all'interno della sua abitazione di Monteodorisio. La pista prediletta dai carabinieri può essere quella del soffocamento. Dall'esame odierno sono attesi altri dettagli decisivi a partire dall'orario della morte. L'uomo infatti potrebbe essere stato ucciso due o tre giorni fa. Resta da capire se il pensionato, ex dipendente della Pilkington, sia stato legato prima o dopo il decesso. È probabile che le fascette siano state applicate dopo la morte per simulare una rapina finita male. Una ipotesi, la rapina scartata subito dagli inquirenti. L'esame del dottor Pietro Falco è teso anche a capire se ci sono tracce di DNA sotto le unghie del cadavere del pensionato. Questo significherebbe che c'è stata colluttazione con l'assassino e che l'anziano abbia provato a difendersi. Nella giornata di ieri, nell'abitazione sotto sequestro, erano attesi i RIS da Roma, ma la scientifica non è intervenuta sul luogo del delitto. Cambiamo pagina. Presentati questa mattina a pescare i candidati della lista civica popolare Lorenzin, che correranno alle elezioni politiche del 4 marzo. La lista, capeggiata dal sottosegretario uscente alla giustizia Federica Chiavaroli, punta alla continuità di alleanza con il Partito Democratico. Il servizio di Paolo Ranzetti. Senatrice Chiavaroli, con Civica Popolare, volete dare seguito all'azione di governo degli ultimi 5 anni? Noi ci candidiamo in continuità con il governo Gentiloni, perché siamo convinti che l'Italia sia sulla strada giusta. Certo, ci sono ancora tante cose da fare, e proprio per proseguire un lavoro già iniziato, che noi ci siamo candidati. Noi abbiamo fatto qui in Abruzzo delle liste forti, delle liste con politici già impegnati, che hanno dato già buona prova di sé, ma anche con tante persone nuove di tutti i settori, professionisti, persone impegnate nel sociale, persone impegnate nella scuola, a testimonianza che questo è un progetto serio, credibile, e che incontra anche il gradimento delle persone comuni, di quelli che in politica non si erano mai impegnati e che hanno deciso oggi di impegnarsi con noi. Vogliamo continuare con il programma Industria 4.0, vogliamo continuare a lavorare per il sociale, per gli ultimi. Noi abbiamo fatto un grande lavoro sulla povertà, di contrasto alla povertà, un grande lavoro di sostegno per i disabili, con la legge sul dopo di noi, con la legge sui caregiver. Noi abbiamo fatto anche un grande lavoro, per esempio nel mio settore, che è la giustizia, con il processo civile telematico, e quindi tutte queste riforme che abbiamo fatto necessitano di essere continuate, necessitano di essere potenziate, e noi per questo ci candidiamo, per recuperare anche una dimensione di serietà della politica, perché il tempo di più tutto per tutti è finito. Il segretario nazionale della FIM, CISL, Ferdinando Ugliano, è intervenuto sulla vicenda dei premi SEVEL, per noi è stato un importante risultato, ha detto. Sì, è un risultato importante, noi abbiamo fatto una fotografia degli ultimi tre anni, i lavoratori SEVEL hanno ottenuto, tra il premio di efficienza e il premio di redditività, 4.455 Euro in questo triennio, contro un'inflazione che chiedeva un incremento salariale di 517 Euro, quindi questo è un risultato importante, che la strada perseguita dalla nostra organizzazione, di fare accordi collegati all'andamento dell'azienda, hanno consentito di far crescere il salario dei lavoratori di SEVEL. E poi c'è anche l'aspetto Welfare, che non è da sottolineare con un conto dedicato. Sì, noi abbiamo stabilito di utilizzare, di dare l'opportunità al lavoratore di utilizzare anche il conto Welfare, cioè utilizzando parte dei premi che verranno erogati, fino a un massimo di 1.500 Euro, il lavoratore potrà avere vantaggi fiscali e dei tassati, che consentono di utilizzare delle spese collegate alle esigenze familiari, quindi si va dall'asilo nido, piuttosto che dalla retta scolastica, ai libri di testo, quindi è un aiuto in più e quindi l'incremento salariale che sarà di 1.320 Euro, quello che i lavoratori trovano nelle buste paghe nel mese di febbraio, si aggiungerà un vantaggio ulteriore se i lavoratori opteranno per versare parte di quel premio e altri premi presenti già in aziende nel conto Welfare. Il Presidente del Consiglio Comunale dell'Aquila, Tinari, convocherà un Consiglio Comunale straordinario per discutere del cementificio di Cagnano, la popolazione sul piede di guerra per i danni che potrebbe avere per la salute degli abitanti. Il Presidente del Consiglio Comunale dell'Aquila, Alberto Tinari, interviene sul cementificio di Cagnano. Il Consiglio intende raccogliere infatti le preoccupazioni e gli allarmi espressi dalla popolazione di Cagnano-Miterno, nonché dalle associazioni dai sindaci dei comprensori dell'Alta Valle dell'Aterno, in merito all'incenerimento di CSS e combustibile solido secondario da parte del cementificio Exacci. Per questo sarà convocato un Consiglio Comunale straordinario aperto per discutere sulla questione dello stabilimento cementer di Cagnano alla presenza dei sindaci e di esperti dell'ambiente. L'ex cementificio, gestito dal colosso Ital Cementi da gennaio scorso, avrebbe già avviato l'incenerimento del combustibile CSS, un prodotto derivante dalla lavorazione di rifiuti urbani, per la produzione del cemento. I sindaci della zona, Monte Reale, Barite Pizzoli e Tornimparte, con una delibera già approvata dai rispettivi consigli, chiedono la sospensione delle attività. È necessario fare chiarezza circa gli effetti negativi connessi alla combustione del CSS negli inceneritori, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in un territorio a ridosso del parco. L'Arta ha inoltre il dovere di monitorare le emissioni, la richieduta degli inquinanti e dei metalli pesanti. Ci chiediamo che posizione intende assumere la Regione, scrive Tinari e conclude, che aveva autorizzato in via sperimentale l'uso del combustibile con il protocollo d'intesa progetto CSS Abruzzo, sottoscritto con il Consorzio EcoCarbon nel mese di novembre del 2014. È importante sapere se il cementificio ha l'autorizzazione integrata ambientale. La salute dei cittadini, infatti, e la tutela dell'ambiente vengono prima di tutto. L'avvertenza Honeywell lascia uno strascico pesante in Val di Sangro con il licenziamento dei lavoratori dell'indotto, 30 alla manutenzione Isman e 50 alla logistica Travaglini. Vediamo. Coinvolge un altro centinaio di lavoratori, l'avvertenza Honeywell, che ha 420 dipendenti in attesa di perdere il lavoro dal prossimo mese di aprile. Per l'indotto della fabbrica dei Turbo ci sarà uno strascico non indifferente in Val di Sangro. È notizia di queste ore, infatti, l'annuncio del licenziamento di 30 dipendenti della ditta di manutenzione Isman. Lo riferisce il segretario Fim Cis, il primiano Biscotti. C'è l'indotto che riguarda circa un centinaio di lavoratori e sono proprio quelli meno tutelati. Faccio l'esempio della Isman, lavoratori che facevano la manutenzione perché la Honeywell aveva deciso di portare fuori, di esternalizzare la manutenzione, parliamo di circa 30 lavoratori e abbiamo ricevuto in questi giorni l'apertura di procedura di licenziamento collettivo proprio per questi lavoratori. Il licenziamento scatterà a fine marzo anche per 50 dipendenti della logistica Travaglini, dove durante lo sciopero i lavoratori Honeywell avevano installato un secondo presidio permanente. Lo riferisce il segretario Fiammichietti, Davide Labbrozzi. La situazione è drammatica, è drammatica come un po' tutto l'indotto, nel senso che la Honeywell ha appena comunicato l'accessazione del contratto di lavoro con questa azienda che conta più di 100 lavoratori e sappiamo che la Honeywell per Travaglini è oltre il 50% del fatturato, quindi questo significa che dal primo di aprile Travaglini avrà più o meno metà dipendenti. Insomma, adesso non voglio fare un'equazione diretta tra persone e fatturato, però sappiamo che oltre 50 persone saranno in esubero. È partita una trattativa proprio in questi giorni per cercare di capire se è possibile tenere in vita quell'impianto con gli ammortizzatori sociali, anche perché quell'azienda ha un livello di professionalità elevatissimo, non parliamo di semplici carrellisti, ma di persone che gestiscono un magazzino avanzato e che con l'informatica passano la giornata lavorativa. Quindi il nostro obiettivo è quello di tenere in vita quel nucleo di lavoratori e stiamo lavorando anche con la Regione Abruzzo per capire se è possibile conquistare un nuovo appalto che possa ridare lavoro a tutte quelle persone che senza un nuovo lavoro entreranno nel mondo della disoccupazione. I lavoratori degli uffici territoriali per la ricostruzione che verranno a breve soppressi sono preoccupati per la loro ricollocazione. Dal 2023 potrebbero essere messi in mobilità precari, insomma a tempo indeterminato. Il servizio di Daniela Rosone. Noi precari a vita, le nuove norme sono peggiorative. È quanto scrivono i dipendenti degli UTR, gli uffici territoriali per la ricostruzione. Come dipendenti degli uffici territoriali per la ricostruzione torniamo a denunciare la situazione di anomala precarietà che viviamo da anni e che potrebbe addirittura peggiorare a seguito degli ultimi sviluppi normativi. Pur avendo sottoscritto nel 2013 un contratto a tempo indeterminato, ognuno con il rispettivo comune capofila delle aree emogene lavoriamo nella prospettiva di ritrovarci nel 2023 in soprannumero e quindi nella condizione di essere soggetti alla procedura di mobilità obbligatoria per essere riassorbiti altrove con tutto ciò che questo comporta per la vita dei lavoratori e per le loro famiglie, insomma dei precari a tempo indeterminato. Il recentissimo emendamento del Governo inserito nel decreto fiscale ha disposto che dal 1 luglio 2018 gli UTR verranno soppressi e il personale verrà dislocato con tutta probabilità presso l'USRC con sede a fossa. Questo ci pone davanti a un paradosso dicono i lavoratori innanzitutto a fronte della dislocazione fisica presso l'USRC e la soppressione degli uffici originari non è prevista nella legge nessuna modifica del contratto che si presume quindi resterà in essere con gli attuali comuni capofila fino e non oltre il 2023. Dalla recentissima ricognizione sul fabbisogno di personale chiesta dal coordinatore dei sindaci delle aree omogenee a singoli comuni e sollecitata negli ultimi giorni da dipendenti stessi così come dalla CGL è emerso che su 56 comuni solo 5 hanno risposto Tossicia Pietracamela Fanadriano Cocullo e Acciano escludendo esplicitamente la possibilità di assorbimento del personale in questione o comunque di far delle previsioni ad oggi. Inoltre si andrebbe ad aggravare la già incomprensibile discriminazione dovuta all'emendamento castricone cosiddetto castricone che comporta una diversità di trattamento scrivono ancora parità di mansioni dei dipendenti UTR rispetto ai colleghi degli uffici speciali USRA e USRC contrattualizzati sia con il MIT che con l'ente locale a tempo determinato. Crediamo e concludono che se lo scopo dei recenti sviluppi normativi in materia di organizzazione gestionale degli uffici per la ricostruzione sia quello di creare le condizioni per accelerare la ricostruzione stessa allora non si possano tenere conto di queste criticità. Questa situazione deve essere risolta nell'immediato non rimandando ad una data indefinita continuamente prorogata originariamente 2021 ad oggi 2023 se c'è la volontà di arginare il continuo esodo di personale specializzato verso posizioni lavorative effettivamente stabili. La serenità dei lavoratori stessi infatti è la condizione primaria per ottimizzare i processi di ricostruzione in atto. Cambiamo pagina il 14 febbraio il 14 febbraio si rinnova a Montorio al Vomano l'antica tradizione del carnevale morto una tradizione appunto unica nel suo genere che attira migliaia di visitatori un corteo funebre che termina con la resurrezione del morto tra applausi e balli in piazza. Tania Bonnici Castelli Anche quest'anno a Montorio si festeggia l'antico rito del carnevale morto si tratta di un'antica tradizione unica nel suo genere nel panorama regionale e nazionale che richiama ogni anno tantissimi visitatori per questo la proloco di Montorio si è fortemente impegnata a garantire lo svolgimento dell'evento nonostante i grandi problemi di spopolamento causati dal terremoto. Torna il carnevale sì con grandi difficoltà imposte anche dai decreti di sicurezza dopo i fatti di Torino ma ce l'abbiamo messa tutta anche grazie agli uffici comunali e al corpo di polizia municipale che si sono prodigati per far sì che questa manifestazione si svolgesse anche quest'anno con tutte le norme di sicurezza rispettando la legge chiaramente. La morte del carnevale si celebra dunque il 14 febbraio con appuntamento alle ore 20 in via dei mulini a Montorio dove si dispiega il corteo funebre tutt'altro che mesto per arrivare in piazza Orsini per la celebrazione delle sequie ad interpretare il carnevale morto e come sempre un personaggio storico del paese. Mercoledì sera mercoledì 14 a partire dalle ore 20 ci sarà la processione del carnevale morto che è la processione che è la festa che ci ha fatto conoscere a livello nazionale negli ultimi 15 anni l'abbiamo promossa a tutti i livelli abbiamo trovato un riscontro veramente positivo perché è un unicum a livello nazionale lo ricordiamo sempre non si svolge non si fa da nessun'altra parte come si fa a Montorio. Ad accompagnare il feretro come ogni anno è la banda città di Montorio in un'alternanza di marce funebri e brani di irriverente allegria al termine del percorso il carnevale morto resuscita tra plausi balli castagnole e vin brule per tutti invito tutti coloro che non l'hanno mai vista a venire mercoledì sera dalle ore 20 in via dei mulini e poi per le vie del centro storico fino a piazza Orsini dove concluderemo poi la fine con vin brule e castagnole offerte come tradizione dall'organizzazione e ora apriamo la pagina dello sport e parliamo di serie B e di Pescara oggi doppia seduta per i Biancazzurri in vista del match di sabato con la Saernitana allo stadio Adriatico Cornacchia per i Biancazzurri c'è l'obbligo di cancellare le due sconfitte consecutive contro Perugia e Frosinone che hanno allontanato il Pescara dalla zona playoff intanto l'ex direttore sportivo Andrea Iaconi è stato ospite ieri sera alla trasmissione replay di Enrico Rocchi ed ha analizzato così il momento del Delfino ascoltiamolo io penso che il Pescara sia una buona squadra mancano mi pare 18 partite siamo alla 24esima giornata quindi c'è ancora tempo per recuperare perché in serie B arrivare nei primi 8 non è poi così difficoltoso non c'è non ci sono tante difficoltà il Pescara il Pescara la potenzialità per arrivarci il problema è che la cosa che mi lascia un po' perplesso è che forse per la prima volta non vedi una squadra con le caratteristiche dell'allenatore che è un allenatore che incide perché ha sempre inciso dovunque è andato a volte di più a volte meno e questo però avviene dall'inizio dell'anno questo è dall'inizio quindi probabilmente non tutti i giocatori sono sono giusti non ho capito sempre dal di fuori il mercato di adesso perché se tu vai a togliere Zambano Benalie e Gans e arrivano quelli che sono arrivati dal punto di vista qualitativo secondo me hai perso molto cioè non lo capisci perché è un rischio troppo grosso privarsi di questi elementi sono tre giocatori che quelli che sono andati via che in serie B non fanno la differenza ma comunque sono importantissimi quelli che sono arrivati non non lo so non lo so non sono allo stesso livello secondo me no sono diversi secondo me no però Zeman ci ha insegnato negli anni passati che anche giocatori che non conosciuti o magari non bravissimi sono riusciti sempre a dare il meglio quindi è una situazione un po' ingarbugliata una cosa è certa che io adesso seguo molto di più il campionato di serie B che quando lavoravo è le squadre giocano malissimo quindi ecco perché dico che il Pescara secondo me ha ancora la possibilità di inserirsi perché il Pescara i principi di gioco li ha se la squadra riesce a migliorarsi il Pescara può vincere anche 5-6 partite di fila ed ora parliamo di serie C presentato ieri pomeriggio a Teramo l'ultimo arrivato in casa Bianco-Rossa si tratta dell'ex Pescara Andrea Rossi esterno mancino reduce da un periodo fuorirosa in biancazzurro conta di riscattarsi con la nuova maglia anche il DS Federico spiega i motivi che hanno portato alla chiusura della trattativa vediamo prima di venire qua è da un mese che mi allenavo a Pescara ovviamente non ho il ritmo partita non ho 90 minuti però sto già facendo tutto con il gruppo partitelle tutto quindi piano piano arriverà da 6 il ritmo partita si ho deciso di un infortunio che mi ha tenuto fuori la prima parte di campionato a Pescara poi ho deciso di rimettermi in gioco qua perché non conta la categoria ma voglio giocare nonostante che che si dica ho 31 anni sono ancora giovane quindi voglio ancora divertirmi la scelta di arrivare ad Andrea tra l'altro è una scelta anche per l'uomo perché siamo stati insieme tre anni a Siena e quindi conosco perfettamente le sue qualità umane umani morali e tecniche quindi sono convinto che poi da qui alla fine ci darà un grosso contributo una partita che dovevamo assolutamente portare a casa io dico almeno un pareggio ma sono convinto che la partita di sabato debba farci capire che dobbiamo metterci qualcosa di diverso dobbiamo fare qualcosa di più un po' tutti e quando dico tutti dico in primis la squadra ma dico anche il pubblico deve darci una mano tutti insieme dobbiamo invertire la rotta perché è una squadra che vuole uscire fuori da questa situazione difficile e ripeto noi in primis dobbiamo fare qualcosa di diverso perché se gli altri vincono le partite con pochissimo noi dobbiamo arrivare a fare altrettanto ma visto e considerato che in campo dimostriamo di meritare ben altro vuol dire che dobbiamo metterci anche maggiore convinzione in quello che facciamo ho rimpianto perché a Pescara non sono riuscito a vincere il campionato ma magari io hanno vinto l'anno dopo ma a livello di sono rimasto in ottimi rapporti con il presidente avevo visto che il mio ciclo lì era finito e senza grandi problemi sono venuto qua a rimettermi in gioco ma so vorrei ringraziare anche il presidente il presidente Campitelli il direttore per le opportunità che mi hanno dato e sono stato molto contento di aver accettato terra e ora parliamo di serie D ospite della trasmissione l'Abruzzo del Pallone il presidente dell'Avezzano Calcio Gianni Paris ha parlato dei punti persi per strada dai suoi contro le piccole e della sua volontà di riportare in C la società anche percorrendo la pista del ripescaggio io credo che poi questi campionati si vincano tanto con la presenza del presidente con la presenza del vicepresidente con la presenza della società all'interno dello spogliatoio il calcio è fatto di 90 minuti ma tante volte i campionati si vincono nel dietro le quinte tante volte i campionati si vincono attraverso una pressione genuina sana che viene fatta nei confronti della squadra del gruppo perché ti fa capire quello che poi è il volere il sentire il valore della maglia noi cerchiamo sempre anche a volte io personalmente esagero con qualche parola nei confronti della squadra nello spogliatoio però i ragazzi che sono intelligenti capiscono che lo faccio perché sono un tifoso e soprattutto perché vorrei vedere la pezzano calcio sempre più su la società ha promesso il ripescaggio io ti ricordo che nell'attuale campionato di serie C due gironi sono stati con squadre dispari a riconferma del fatto che se non c'è la pecunia non c'è la struttura non c'è lo stadio e quindi non c'è quella che poi è la società che merita di essere ripescata in serie C non si va da nessuna parte Avezzano l'Avezzano SRL sotto la mia presidenza e con Luciano D'Alessandro e quello che poi è il sistema societario sponsor scuola calcio settore giovanile tutto quello che abbiamo creato anche col mondo del merchandise è in grado di reggere una serie C perché noi poi siamo convinti che allo stadio verrebbero almeno il doppio se non di più del pubblico attualmente presente al 2 di marzo e quindi io non riesco a parlarti della stagione prossima perché non mi piace neanche fare il mago e perché sono convinto che su questa stagione l'Avezzano può costruire la concretezza e quindi la possibilità di ritornare in serie C e chiudiamo con la Pallannuoto Amedeo Pomiglio vice allenatore della nazionale italiana di Pallannuoto e in passato olimpionico vincitore a Barcellona 92 campione d'Italia campione d'Europa e campione del mondo torna a Pescara è infatti ufficiale il suo ingaggio da parte della società Bianca Azzurra in qualità di supervisore tecnico un incarico destinato a tramutarsi nella nuova stagione in direttore tecnico ci sembrava giusto così ha detto Amedeo Pomiglio perché la stagione attuale è in corso ed è bene che io mi limiti a supervisionare le attività per capire meglio dove intervenire in seguito Amedeo Pomiglio avrà competenza su tutte le categorie con una particolare attenzione al settore giovanile che è anche un pallino del Pescara Pallannuoto ho accettato con entusiasmo le proposte del Presidente Marinelli e del Vice di Properzio perché vedo delle basi importanti su cui poter lavorare è tutto per questa prima edizione del TG6 prossimi appuntamenti alle ore 19 e alle ore 23 e poi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Proteramo la trasmissione curata e condotta da Jacopo Forcella grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi grazie per la visione